Sarà l'inizio di una nuova era Nel centenario dell'affondamento del Titanic Una nave fatta per domare le onde Di dimensioni e lusso senza i quali Un grande evento Rai Questa gente ha un lavoro, dovrebbe essere contenta Per una storia di sfide e passioni I lavoratori non potranno restare ancora a lungo sottomessi Ma qui siamo a Belfast Non è solo la nostra nave a possedere una struttura d'acciaio Ma anche le persone che l'hanno costruita Titanic, nascita di una leggenda Prossimamente su Rai 1